ragazzi su telegram no non è vero non siamo in live su telegram siamo in live su twitch cosa sto dicendo su twitch www.twitch.tv slash jackpot g e c pot cavolo non vedevo l'ora io l'ho detto si su telegram che saremmo stati per la prima volta live qua ovviamente se vedrai questo video sarà semplicemente un video che ho semplicemente preso da twitch e l'ho spostato qua su youtube e io vi dico ragazzi spostatevi spostatevi perché io sono live tutti i giorni tutti i santi giorni adesso con animal crossing quindi se volete se volete guardarmi anche su animal crossing venite su twitch porca miseria mi raccomando questo video dovrà arrivare almeno almeno a 30 like proprio la bomba quindi non lo spammerò durante la live perché su twitch non ci sono i like su twitch non ci sono i like devi stare qua a supportare e iscriverti bella mario quello di telegram finalmente c'è qualcuno arrivi da youtube che sei chi sei si si palesi si palesi allora io ho promesso a natsu che avrei iniziato prima la live per fargli vedere quanto mi lagga il telefono contro il doppio z contro il vecchio doppio z allora il nuovo evento inizierà tra otto minuti quindi noi abbiamo giusto un po di tempo per per provare bella gammi bella gammi allora fatemi spostare questo lo sposto di qua così tutto a posto questo il nostro doppio z in più adesso sono collegato con team viewer al pc qui sarà ancora molto molto più 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 laggante quindi aspettate che facciamo così ragazzi voi che state guardando il video mettete il like mi raccomando molto importante ovviamente descrizione ci sono tutti i link cioè ci saranno tutti i link e ragazzi cosa stiamo parlando tutto bene gammi tutto bene te allora cambiamo team no questo non è il team ma è questo c'è già non mi prende i colpi sto usando il pennino è per essere più preciso sto usando il pennino abbiamo ben sette sigilli su nove dai iniziamo tanto tra sette minuti c'è bella serra bella serra io faccio però fare una sfida così sei tra sei ciao di telegram anche bella ciao spama spama di a tutti di venire adesso vi faccio vedere come funziona mio telefono che dopo l'ultimo aggiornamento che hanno fatto non è non è fatti mamma guardate mi sembra una roba possibile non ha senso adesso sto ce lo sto giocando senza senso so che il metodo non è questo mamma mia so che non è questo il metodo per fare il doppio z però c'è già fatto malissimo mamma mia brutta storia vediamo un po se riusciamo a fare qualcosa di utile non ce la faremo mai bella bella meri niente guarda guarda sto maledetto eppure ho tutto tutti bonus non ero ancora neanche entrato in mamma mia è impossibile non linka niente è un disastro bella pepe abbiamo levato una puzzetta il massimo che sono riuscito no no lo so lo so nazzo che stavo sbagliando stavo giusto per far cioè facendovi vedere come lag stavo giusto facendovi vedere come lag lo so che prima devo ottenere le cose grandi entrare in fever usare battanchiù sì 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 bella muflone bella lì benvenuti a tutti non l'è ancora no no l'abbiamo già preso Mary l'ha preso l'ha preso nazzo che qua in chat emily odas cosa cosa ci aspettiamo da questo da questo evento cosa ci aspettiamo è un disastro sapete che tra l'altro è stranissimo stare live senza le cuffie perché tanto io sento dal telefono non ho bisogno delle cuffie tornea purtroppo sì purtroppo io spero che che si potrà che si potrà farmare si potrà autocliccare 10 punti che non fanno mai male tu hai visto che ho resistito c'è qualcuno qua attenzione l'otto tre minuti di otto fatemi cambiare il team facciamo un colpo dai usiamo questo usiamo questo facciamo un colpo così facciamo un po' di punti hai visto nazzo che tu non mi credevi non mi credevi eppure e a volte mi lagga pure qua e a volte lagga pure qua mamma mia è incredibile non so chi sto aiutando in questo momento ma andiamo dritto per dritto tanto è un po' storto l'ho sparato allora sì dovrebbe essere easy ma se ti fanno i cambi di team come l'altra volta come fai è un bello sbatti forse prendo prendo uno eh infatti mi ha presi due maledetto ciao moccio non è torneo ah boh io ormai mi aspetto mi aspetto di tutto da dagli eventi sono tre mappe con gli oggetti da rubare intanto abbiamo fatto un po' di punti anche alla fine continuate a sparmarlo sul gruppo a sparmarlo sul gruppo telegram ragazzi eh boh io ci ho provato eh io ci ho provato a tirartelo giù l'otto ma non ce l'abbiamo fatto tra l'altro lo doppio z dopo che l'hai preso l'ho usato tipo due tre volte è bassissimo eh non l'ho ancora portato su caro natsu caro natsu eh sì per forza oh un minuto un minuto io esco sono le 16 e 59 manca pochissimo avete già fatto il download? l'avete già aggiornato tutto quanto? l'avete scaricato? in questo era tipo 13 mega ciao Ale tutto bene? devi fare l'evento? in che senso? ah ok bella Eragon eh boh forse ce n'è uno nel nella slot può essere adesso adesso vediamo adesso vediamo dovrebbe pare che ci sia uno attenzione 17 spaccate pare che uno sia nella slot mo lo scopriamo mo lo scopriamo dottori ecco what? ahia ragazzi ho un brutto presentimento vi ricordate su Wibble Wobble quando c'è stato questo evento qua ahiaiaiai brutta presentimento porca miseria ho un po' di strizzetta allora entriamo la mappa come sapevamo mappa nuovo orologio questo lo sapevamo questo lo sapevamo va bene noi ci mettiamo in free mode come sempre e forse forse sarà l'ultimo evento di puni puni ragazzi perché non sanno più che cosa inventare se cosa sono sti aborti mamma mia mamma mia allora triple S bruttissimo bruttissimo eccoli là io vi ricordo che l'altro evento che era a torneo era un disastro tra l'altro questo orologio qua non l'ho neanche mai visto che cos'è che orologio è tutti i pezzi gnambo c'è qualcosa nella gnambo il doppio z no c'è il vecchio aia andiamo a vedere qua nelle news ragazzi allora prima di tutto questo è questo è Mazinga è Voltron non l'ho visto ha rotto solo i suoi amici fa un po' cagare è veramente brutto bello bello molto bello e questo è un doppio z ragazzi qualcosa non mi torna va bene ok va bene così ah probabilmente con l'orologio fa più brutto di prima ok vabbè queste qui cebbero spunti nella slot abbiamo uno z che ci fa vedere subito che cos'è che probabilmente è meglio del doppio z perché sono degli orologi che cosa sono osterologico fanno qualcosa non fanno una mazza nel verde seba il verde si si poi massimo cambi ok questo è veramente brutto cioè che capelli ha tra un po' avrò io i capelli così mi sono sul cappello perché un po' mi vergognavo ciao palla e l'orologio ok questo s forse forse il più carino vediamo nella slot cosa c'è allora abbiamo lo z ci sono le probabilità per i due triple s e per il doppio s ok secondo me se non fate questo evento ciao mocio secondo me se non fate questo evento risparmiate tempo punti se ne avete e probabilmente e probabilmente sarà l'ultimo evento ah si boh però visto il cuore io mi emoziono sempre è che quando non sono abituato a collegare a collegare te a a puni puni eh lo so ciao vito bella bella player allora il doppio z a me piace mi piace mi fa tornare giovane molto lo z si è guardabile ci sta i due triple s sono a tre triple s ok ah perché probabilmente questo qua in mezzo è quello che si può prendere dalla dall'evento what io voglio questo io voglio questo doppio s eh boh così perché mi ero un po' rotto di youtube poi ricaricherò il video su youtube infatti ragazzi mettete like su youtube mettetelo allora si secondo me siamo verso la fine di puni puni ragazzi cioè a guardare questo cosa sta succedendo ah non è che a guardare i login stamp ragazzi mi viene cioè che cosa mi sta a significare l'ultimo giorno 350 un ticket per rubare e un energy max ah non non l'ultimo giorno il quarto giorno ogni quarto giorno 350 punti quindi ogni quattro giorni hai una singola no non mi torna ragazzi non mi torna perché devi fare una roba del genere cambiamo team no prima facciamo un po' di livelli dai come sempre facciamo un po' di livelli cambiamo team qual era questo qua se più o meno dai usiamo questo ah è vero adesso andiamo a vederlo si ma quando quando lo trovo il giusto equilibrio io lo condivido lo condivido sempre vabbè questo muore male così sbaglio o non sta scendendo niente bella crona non so se ci dà punti qua ah anche il primo ce l'ha già dato il primo ce l'ha dato cosa sono ah il mio canale grande mocio bravissimo ma allora tecnicamente si può farmare come le schifezze ragazzi easy easy autoclicker a manetta dopo metto a caricare il tablet ma in realtà dovrebbe essere yokaiwatch.it aspetta fammi vedere che che link è chiappato ah si ma dovrebbe finire già con yokaiwatch.it cioè yokaiwatch.it si andiamo a vedere lo shop dei punti andiamo a vedere la slot però le probabilità l'abbiamo già viste che c'è lo z probabilità bassa i due triple s probabilità alta responsabili delle seccature della vita quotidiana e il doppio s con probabilità guarda te li faccio vedere l'abbiamo già visti prima lo z e lo 0.5 0 7 50 i due triple s che probabilmente anche l'ultimo mi manca anche l'ultimo mi manca con lo 0.2 e 1.3 quello mi sembra grosso dai ragazzi ci facciamo un po' di partite poi andiamo andiamo a slottare crono quando ti dicevo che avresti dovuto tenere i punti hai visto perché ragazzi si farma easy si farma easy fatemi trovare il punto giusto il livello giusto dove andare a farmare questo questo evento lo facciamo probabilmente domani dopo domani è già finito proprio di morbidezza e ti dirò di più adesso cambio tema ne facciamo uno più veloce ah hai già il click ma what bella è il pro bella seba grazie per il follo ma boh Natsu abbiamo preso anche un pezzo vediamo vediamo se ci sarà qualcosa da reclutare l'autoclicker praticamente è un è un'applicazione che simula i tocchi e quindi gioca e quindi gioca al tuo posto ma avevo detto che cambiavamo team vediamo se c'ho il mio il mio team no vabbè dai facciamolo facciamo facciamo il mio team magico dove sei dove eccolo lì Takao ragazzi Takao facciamo così gioca si si gioca solo lui tu devi solo slottare ah sicuramente c'è qualcosa da reclutare o poi sai che con il culo che ho Takao il solo è l'unico lo sai che con il culo che ho non non riuscirò a trovare a droppare gli ultimi pezzi quindi dovrei andare a rubare è andato di fatto troppo forte vuoi giocare velocemente usa Takao bravissimo si però però te lo devi impostare te devi trovare in base al tuo team e devi trovare un livello dove A non schiatti B non vai a cliccare sugli altri livelli e C riesci a farmare anche un po' di soldi non punti tu non guardare i punti adesso cioè guarda anche i punti però devi riuscire ad essere sempre in positivo perché ovviamente finirai le vite tu andrai a comprarle le vite devi fare 6.000 ti dà 50 vite quindi con 50 vite devi almeno rientrare nei 6.000 capito se vuoi fare le cose fatte per bene ogni tanto ti ci metti ci giochi te se generalmente generalmente giochi metti il clicker attivo su un livello dove ci sono tre tizi quindi c'è più possibilità di spawn oggetti e generalmente il 44 42 dipende però vedi sono quasi tutti sono quasi tutti alti cioè sono quasi tutti con tre yokai ma al terzo livello già due erano con con tre yokai troppo alto il volume del gioco si sente bene guarda un altro pezzo io spero di non essere sfortunato come l'altro che al penultimo eravamo a 70 nel frattempo slotti giocaci un po' fagli capire che tu ci tiene al gioco capito abbassa un po' il volume ok perché grabba dal microfono se mi esce lo z al primo colpo come è dai ragazzi vi hanno regalato 9k non li avete usati vero appena usato 18k che ho formato io eh vabbè però in questo evento è uno di quegli eventi dove se riesce a usare veramente l'autoclicker seriamente ti porti tutti gli z al 60 doppia z al 70 e riesce a fare almeno una slot al giorno eh si ma lui lui è grossoforte anche perché anche perché linka lontano vedi se non sbaglio carica anche qualcosina è utile è utile solo per questo secondo me però gli regalano ancora i 9k buono buono un altro biglietto io uso quello perché è veloce è veloce ah devo far salire di livello il doppio z è veloce da fare ci passi poco tempo tanto a me soldi non mi interessa ho quasi 3 milioni non è che mi interessi per così tanto quindi uso lui è veloce non ci penso matte si chiama yokai watch puni puni è un gioco che c'è solo sullo store giapponese generalmente le live le faccio sul mio canale youtube però sto giro ho deciso di farla qua ma di farla su twitch perché twitch è meglio di youtube momentaneamente e poi recupererò la live e la metterò su youtube allora c'è takao dei beyblade perché c'è stata una più di un anno fa una collaborazione tra yokai e beyblade semplicemente per questo guarda guarda come guarda come lagga guarda quando vado a poppare adesso capisci perché non riesco a fare di impossible guarda non li prende neanche è no sense è molto bello come gioco anche perché ogni 15 giorni ti butta fuori un nuovo evento alla fine sono 4-5 che si ripetono però ti butta fuori personaggi nuovi ogni personaggio dovrebbe avere una peculiarità però sono sempre le stesse che si ripetono ormai cambiano solo esteticamente più o meno sì c'è sempre quello migliore rispetto all'altro ovviamente perché le possibilità sono infinite però come gioco a me piace molto primo robo di gnambo fatto il pro devi sceglierlo te conta che le 20 ci sono io io non riesco non so perché da quando hanno aggiornato io l'onor view 20 da quando hanno aggiornato è un disastro probabilmente questo qua ci droppa ci droppa i pezzi ci droppa i pezzi dell'orologio nuovo non vorrei dire una stupidaggine però secondo me lui è l'addetto al droppaggio vediamo un po' vai vai tra ma quindi quella storia lì player com'è andata per il compleanno nada ma non ho tutto praticamente infinito comunque ogni 15 giorni ci sono gli eventi perché non dovrei non dovrei giocare dopo andiamo a slottare dopo andiamo a spendere un po' dei punti che abbiamo farmato nello scorso evento dove si poteva usare l'autoclicker avevamo 400.000 punti correggimi se sbaglio Natsu 400 quasi 400 hai trovato un orso ancora nada player shit io ci spero io ci spero non l'ho ancora viste ma è quella con i capelli da pazzo bisogna vedere che bonus ha non te lo so dire ma in che senso sono stato il primo a farti gli auguri quindi dobbiamo metterci insieme una volta 3 così eh boh non lo so me lo auguro seba mi auguro di metterci meno di 140k perché non senso secondo te da quanto c'è iokiwatch 4 su nintendo switch se non lo conosci c'è il player matte tu stai parlando con il signor iokiwatch.it io ho già giocato tutto iokiwatch 4 se scrivi su su youtube iokiwatch 4 gameplay trovi tutti i miei gameplay che ho fatto e no ripeto che lag lag è un dato di fatto e generalmente allora l'anno scorso è uscito a luglio no fine fine giugno perché ero partito a luglio me lo giocavo al mare facevi video dal mare io mi auguro almeno a giugno però con sto covid qua la vedo dura 0.7 troppi blue qua mi fanno insieme gli occhi allora l'unica cosa buona guarda perché ogni tanto non li link l'unica cosa buona è che quando si può usare il il clicker posso evitare di stare addosso ai condivisori tranne che a natsu perché natsu è imprescindibile capito metto lì il gioco h24 ma lo z tosto chi ha in team si trova in niambo sai che qual è lo z tosto quello tutto a sinistra non l'abbiamo trovato con la niambo se non vado errato con la niambo l'abbiamo trovato eh cavolo meno male che l'abbiamo reclutato che se semplicemente sto gioco lo ripeto non lo smetto anzi non smetterò mai di ripetere lo mettessero in inglese invece no lo chiuderanno porca miseria beh Mario io io l'ho sempre detto ragazzi le niambo tenetele oh è bell'anto le niambo tenetele non non fatevi chiudere la vena già devo slottare aspettate il momento giusto tanto a ogni a ogni evento ve ne regalano una praticamente una è regalata non siate frenetici come quando sul gruppo dite faccio la singola o aspetto di fare la multi cacchio fai la multi ti regalano ti regalano una una gascia eh secondo me si secondo me lo chiudono puni a breve perché sti stamp mi puzzano un po' ti regalano 50 punti al giorno e al quarto giorno 350 vuol dire che ogni quattro giorni ti regalano una una summon e questa cosa qua l'hanno fatta anche su wibble wabble ma neanche se è appena iniziato mario neanche se è appena iniziato perché ti ammazzi le gambe cioè provete le tagli ti perdi la possibilità cioè tanto hai appena iniziato il gioco lo puoi scaricare solo da co-op matte tanto se è appena iniziato non non ha senso magari puntare a prendere quello yokai che puoi trovare solo in quel momento tanto hai appena iniziato se ne se lisci 2 3 4 eventi tanto hai lisciati a miliardi prima risparmi almeno parti grosso con quello dopo parti grosso con l'evento dopo ah c'è già troppato un pezzo almeno io la vedo così tutto a posto è stato veloce non c'era nessuno easy 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 le mosquese non ti fa abbassare la qualità Nicola strano neanche sulla rotellina vai sulle impostazioni fai qualità anche mai lo mette sulla 1080 molto strano sì chi fa le singole secondo me sta buttando via tempo tempo energie strano di solito di solito lo fa mettere in più sembra molto strano che lo tenga solo 1080 ragazzi qua ci sono l'emoticon voi non lo sapete qui più guardi la live più ti danno punti ti puoi sabbare gratis e poi ci sono l'emoticon guarda che bello guarda guarda che bello ci sono io c'è Anakin guarda 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 che roba YouTube serve qua se le sogna se le sogna tipo Matte vedete che ha la coroncina azzurra vuol dire che ha l'account di Twitch collegato ad Amazon Prime e se se fai la sub al canale hai tutte le emoticon e in più hai il simbolo che ha Vito di fianco la stellina dopo tre mesi c'hai la Pokéball di cosa stiamo parlando ragazzi una volta anche YouTube le aveva messe i badge mi sono durati quanto? un mese? eh e in più in più puoi usare guarda un altro pezzo Seba non posso farlo non so perché generalmente lo fa usiamo lui sai che credo di non averlo mai usato forse una volta l'ho usato però mi sa che quello lì quel ticket lì ce l'avevano già sembra strano ah e in più con con la sub non hai le pubblicità l'importante l'importante ragazzi è che non laghi quando andiamo a slottare hai già il file evento e poi lo lo riesci già a mettere sul gruppo se no poi passamela a me e lo metto io niente iniziamo con i doppioni maledetto scusa scusa non ho capito ah questo 4.000 lo prendi io questo qua già lo voglio questo qua dopo ce lo prendiamo easy 90 punti 3.5 questo cioè guardate quante cose vi regalano cioè non ho senso fammi vedere solo 3 ma che peccato il 4 matte il 4 anche se i blaster sono tanta roba i blasters sono fantasmagorici ed è un peccato che blasters 2 non ci sia in Italia nonostante una piccola parte l'abbiano messa su Yoke Watch 3 la cosa che non capisco è come metteranno se mai uscirà Yoke Watch 4 al di fuori del Giappone come metteranno gli eventi gli yokai sbloccabili tramite ARK che non ci sono non li hanno commercializzati al di fuori del Giappone se li trovo tutti cosa succede in che senso Nicola gli yokai sono contento eh lo so che è morto il yokai adesso vediamo con il 5 vediamo con il 5 abbiamo già fatto la prima mappa easy abbiamo sbloccato un altro boom easy erano tre mappe siamo fuori da scuola fuori dall'accademia perché il 5 sarà accademia ricordatevelo 16 19 20 no da questo lato andiamo a 28 lo facciamo sblocciamo un po' c'è l'online nel 4 si si c'è l'online eh potrebbe essere impossible potrebbe essere impossible alla fine what alla fine un pezzo di orologio molto bene alla fine delle tre mappe magari te lo danno dai slottiamo un po' facciamo qualche slot però mi dovete portare fortuna anche qua su twitch ci sono due impossible stage ah quello per sbloccare capito il classico per andare a sbloccare la la skin diciamo eh no dai Mario vai dai ragazzi qua guarda guarda come si fa ricordatevi qua la mia teoria che è vincente cioè virgola non vi cambia niente se trovate roba grossa nelle rosse guarda 3a roba buona non dobbiamo più trovare b eccole b non troviamo niente qua cioè di cosa stiamo parlando quanti quanti mi ne ha dati di sta palla qua quanti ha ma dato s brutta storia un passo questo era un troll questo era un troll non va poi mutare crona può essere bannato pure brutta storia secondo me bisogna aspettare un po per sfruttare ragazzi like li state mettendo voi che state guardando il video si sto parlando con te tu fai like mettilo capito ah e mi raccomando voi che siete in live poi quando caricherò il video vi arriverà la notifica almeno guardate un minuto e poi mettete like di cosa stiamo parlando no qua non si può mettere like qua non puoi metterlo però dico su youtube è importantissimo e di cosa stiamo parlando da fuori di matto da fuori di matto e sta trollando il gioco sta trollando non va bene non va per niente bene faccio ancora questa slot e poi torno a giocare di là no 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 hanno cambiato qualcosa è come quando su airstone ti dicono non troverai mai le carte doppie nella stessa bustina bam apri tre carte uguale ye ye yes olle quindi ti hanno trollato maledetti attenzione che abbiamo trovato un S così eh come fai a sapere se uno ok è forte eh lo devi usare lo usi guardi la tribù tutti i collegamenti vedi devi usarlo easy poi dipende da che gioco stiamo parlando vabbè ma scusa ma tre uguali due un'altra di queste Z ah no il WS bellissimo il più bello secondo me questo è il più bello che si può trovare e mo si inizia a giocare player ok via bella bella dio no no ti leggo è che avevo trovato avevo trovato quello lì che mi mancava quindi ero già preso bene ero distratto un attimo da quello però ti leggevo ti leggevo ti è piaciuto il risveglio stamattina dio di la verità sì sicuramente è inutile quanto hai riso io avevo le lacrime quando l'ho visto mi sono svegliato alle 6 stamattina cioè stavo piangendo dalle lacrime cosa vuol dire stavo piangendo dalle lacrime non lo so dai questa è andata bene magari ne troviamo un'altra eh gli ho mandato una foto privata dopo te la mando anche a te gli ho gli ho mandato il buongiorno di tenere duro per per il lavoro dai fammi trovare qualcos'altro subito così dai sopra o sotto ragazzi sopra o sotto z dove lo troviamo lo z zzz perché stai dormendo e e ragazzi ho trovato solo il WS per ora sopra sotto sotto attenzione lo troviamo lo troviamo sotto lo z quindi facciamo sopra ok adesso lo troviamo sei un maledetto sei un maledetto no andiamo a giocare un po' dai facciamoci sta mappa comunque abbiamo fatto 20k eh abbiamo slotato 20k non ho ancora capito che qua ci deve si deve dare una sveglia al gioco ancora non l'ha capito eh non va bene eh non va bene Bruce non va bene slot 2 trovi tutto una volta era così ti ricordi ah ci manca quello boom trovato dai 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 ah meno male che ci hai fatto droppare quello a posto dell'oggetto bella Giacomo si chiama yokaywatch.it e puni puni punto it è il mio sito puni 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 oggi nuovo nuovo evento quindi easy bravo moccio grazie non lo conosco io ah perché trovavano tutto troppo velocemente l'altra volta ti ho fatto sfruttare il sito è ancora on almeno fino al 4 di maggio almeno fino al 4 di maggio e solo un'anima pia ha donato un euro per tenerlo in piedi ah wow ah ne ha solo uno wow si no non pesa non pesa tanto il gioco è che poi ci sono c'è un download infinito un euro eh oh un euro oh piuttosto schianiele ma è piuttosto eh no fallo nico si il gioco ormai lagga lagga perché ha troppe cose secondo me io l'ho detto l'altra volta allo scorso evento preferirei magari che facessero meno yokai va bene va bene anche gli stessi eventi meno yokai mi dà la possibilità di recuperare quelli vecchi più spesso però me lo ottimizzi me lo leggerisci un pochino che cosiamo dai siamo loro eh si troppa roba lag un botto matte un botto probabilmente uh grazie però non c'è non c'è il coso qui grazie dio e per tenere sul sito grazie devo andare a recuperarlo il messaggio a parte che ancora non me la momento 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 non me lo dà il messaggio devo andare a recuperarlo devo andare a recuperare manualmente non so perché non me la è un botto di ore allora state un attimo lì qua me l'ha fatto vedere bah non capisco provo a rimandarlo io allora recent event vai che l'ho rimandato io va bene momento 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 anche oggi sarà bugato tutto quanto però ho bisogno della traduzione perché ancora sai che mi sto avvicinando al bergamasco ma ancora non lo mastico così bene io ve l'ho detto ragazzi spostatevi su twitch il canale più bello è jackpot io ve l'ho detto ogni goto tra l'altro era da un botto che non facevo live in just chatting tieni prendi un euro per il sito quindi siamo a 2 euro fantastico ah ciccanebia è milanese che ormai la nebbia non c'è veramente più è incredibile si è estinta la nebbia almeno quest'anno avrà fatto tre giorni di nebbia sto inverno scusate perché l'hanno iniziato da poco inizia da poco ma già rotto sta cercando di ammazzarci di farci estinguere in tutti i modi possibili immaginabili il canale più bello è questo allora non so voi ma io ho un aggiornamento della scheda video e ho un po' di paura a farlo eh ho visto ho visto la storia su instagram player e seba si è rotto probabilmente si è rotto ma ogni tanto viene qua in live eh problemi personali poi credo che si sia rotto l'altro l'altro l'ho sentito l'altro ieri l'ho sentito abbiamo chiacchierato un po' qui abbiamo 10 livelli da fare velocemente molto velocemente perché poi dobbiamo andare a sfruttare tutto tutto dobbiamo sfruttare e buffera perché è impostata solo su 1080 il problema è che non ho cambiato assolutamente nulla dalla live di stamattina non so per quale motivo come siete messi nell'evento nazzo ce l'ha con crono strano chi è che che ingigantiamo lui dai se l'è meritato picchia grosso picchia grosso sta finendo la mappa bene bene adesso quando arriviamo quando finiamo questo stage torniamo a slottare è bello che non ci ha droppato più niente di utile per l'evento fantastico mi piace molto questa cosa ma proprio niente zero non lo so boh io non ho perdite di fotogramme zero e ho messo 6 mega l'importante è che dopo riusciamo a scaricare il video e metterlo su su tutubo no non ce l'ho nazzo non ce l'ho oh un chip chi è che c'era lì ciao mario bella grazie per essere passato ricordati di mettere like su youtube da me tra l'altro io ho dei chip di un orologio vecchio che non sono riuscito a prendere ah beh è chiaro quello è tuo cioè c'è sul tuo nome e sui video di cosa stiamo parlando quanto spinge sto cappello oddio old school proprio preso a new york nel 2009 di cosa stiamo parlando al new era flagship store so che apprezzi boom boom ciao vero dovrei averla anche quella con quella in mezzo possiamo vedere gli Yankees in mezzo magari un giorno parrà un sacco sto cappellero non credo con i peli di Anakin qua ma Matteo magari l'anno prossimo e in Echina è sul balcone tra l'altro potrebbe vedersi lo vedi? eeeh sto fagottino qua vediamo se riesco a indicartelo bene se quello lì è Anakin si vede il culo che guarda fuori sto facendo la vedetta aliena si muove si muove aneki ciao cosa guardi giù scemo mamma mia come stiamo farmando sai cos'è che probabilmente con forse con l'orologio ci darà più punti in sto evento o forse con quello dell'impossible scarmai con tutte e due come come la vedi te Natsu però potrebbe starci che con l'orologio ai più punti cioè cavolo almeno faciliti un po' le persone non droppo più oggetti che palle dici non stiamo droppando più oggetti non va per niente bene che palle ragazzi come si sblacca eh come si sblacca lo stage segreto dopo devo andare a guardare il primo l'ho neanche visto come nella prima mappa zero il watch sarebbe contro lo ZZ immagino ah è già droppato lo fai sul gruppo ok eh dopo ci butto un occhio andiamo a prenderla miambo marirango e perché sono tutti a zero sempre a zero ma bella Natsu ma sai che lo vorrei io stava addosso sì è passato Anakin è andato a dormire nel bidet probabilmente ah che palle mi sono dimenticato di mettere più vita quello là santo dio santo dio cosa mi droppi di bello altri pezzi ben 150 ponti ah no aspetta facciamo finiamo la mappa dai finiamo la mappa la seconda parte poi nel frattempo tiro su questo adesso salottiamo dai erano 4 livelli mancavano 4 5 livelli ci mettiamo 2 minuti ci mettiamo guarda siamo al 23 dobbiamo arrivare al 28 manca niente sì sì è bravo è bravo come come mod testato sul gruppo sul gruppo telegram è bravo è bravo vai vai player poi se hai bisogno di qualcosa su su animali crostini fammelo sapere che ti che ti mando roba oggetti la grana ah però blu ce lo avevano già che peccato bella auguri ancora player sì se si oggi è suo compleanno ah che bello grazie gioco sei simpatico 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 ti 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 hai già trovato tutte le pagine e sarò per andare al step successivo vedo te io sono molto sfigato in sto genere di eventi e in azione sa qualcosa ragazzi su youtube fate piovere i like mi raccomando mi vanno insieme gli occhi se non so troppo a noi nulla matte tieni d'oro se trovi tutte le pagine vai allo step successivo dovrai trovare altri oggetti e poi ancora quello dopo che ti sblocca probabilmente qualcosa per l'orologio rosa mi sa che ci mancava yes ti danno 5 miliardi di euro chi è che ha scaricato oggi twitch scriva io in chat chi si è appena iscritto che non funziona non sa come funziona twitch sei contento che adesso per parlare di yoga questo è il tuo evento crono è il tuo evento non vedeva l'ora tu ce l'hai da poco tu ce l'hai da poco addio lo so lo so che ce l'hai da poco anche se vedere il tuo vero nome su youtube in live è piacevole torna a chiedere sul gruppo il 3ds quante risate hai creato uno scompiglio dopo rire ma perché sei stato bannato ah si è uscito ok no lì non controllo qualcuno oggi è uscito dal gruppo jackpot tv solo che non ci dice più il nome non mi ricordo quelli che non contano non mi ricordo cioè che non contano che contano di meno perché probabilmente era uno che era lì per per pokemon lo sapete ah che bello che proprio non l'incanea guarda 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 fantastico fantastico e jackpot tv è quello che viene spammato qua ogni tanto fai punto esclamativo telegram e esce rosso rosso ce l'avevano già quel gruppo lì è un gruppo fuori di testa se entri tieniti forte non te lo apri sei da cellulare senti trovi e aprilo da browser dai ancora due livelli poi si va a slotare passo da browser quando ci clicchi sopra fermo tutti fermi tutti fermi perché è un gruppo chiuso no in realtà non è chiuso sembra strano che non ci sia jackpot tv g e c p o t come il canale e crono fammi fammi arrivare il momento devo metterlo sul tablet poi ti mando la foto non ti preoccupare inizia a scaricarlo autoclicker ok inizia a scaricarlo poi poi ti mando la foto non ti preoccupare comunque il senso è come come te l'ho spiegato prima devi trovare un livello dove non non ci lasci le penne e generalmente imposti uno sul livello e e poi un po' che spammano ai lati dove vai a scoppiare i wob e poi vedi tu su due o tre che fanno le energy max quando si caricano easy generalmente questo l'unico problema è che probabilmente poi non non riesci a caricare devi trovare forse livello 1 cioè puoi farlo anche livello 1 ogni tanto dovrai farmare soldi ah non ti funziona quello seba molto strano non è che magari sei stato bannato perché eri già entrato in passato e hai fatto disastri può essere magari non te lo ricordi adesso siamo in 180 lì un poverino sto qua sciottato ix forse bannato si crono perché lo lasci giocare di notte ma non lo so seba bisogna controllare dai andiamo andiamo a sfruttare no no non devi spegnere il telefono devi rimanere sempre acceso lo puoi mettere anche magari su su com'è che si chiama sul pc e che cacchio sei andiamo a sfruttare un po' dai ma a blu stack bravissimo veramente dopo ti sballo ma erano tre perché questo non me lo fa ah un altro pezzo di orologio buono scusa ma quanti pezzi di orologio ci sono livello 35 livello 25 ma l'ho fatto livello 25 slot ma dio di cosa stiamo parlando con tutto rispetto ma dio dai dottore oh sto qua ce lo siamo levati tra un po' la maxiamo la multi guarda 6 6 7 5 5 7 7 boom ah maledetto solo uno ci è andato ne abbiamo portato i due ma di cosa stiamo parlando da fuori di met sai che mi sai che siamo sfortunate non troverò niente dai dai ma non puoi farmi trovare sempre gli stessi non ha senso un altro segreto un altro segreto fuffa 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 no dobbiamo trovare qualcun altro anzi dobbiamo trovarli tutti i due triple s e lo z dobbiamo trovarli tutti non siamo fortunati su twitch molto strano dai dottore dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi boom z what questo va dove arriva questo è vecchio questo è vecchio questo è vecchio però ci mancava va bene sono contento sono contento sono contento va bene lo stesso oggi ho fatto lo screen perché è bello si si non è dell'evento è vecchio è vecchio non è di accademia una tutte rosse ci sta comunque nelle rosse si può trovare qualcosa non siamo fortunatissimi eh slotti tu? ti senti fortunato? adesso lo troviamo adesso lo troviamo comunque solo 40k eh ci sta ci sta fammi fare un'altra andiamo a 99 facciamo la mappa di solito di solito è un bait quando sono tante ore è un bait lo sappiamo per per certo B B B B B A A portato al set A A portato al set ok ok molto bene molto molto bene Z ragazzi boom GG ciao Luca GG e possiamo ancora trovare possiamo ancora trovare il triple S qua eh guardalo lì boom triple S yes yes di cosa stiamo parlando ragazzi di cosa stiamo parlando di cosa stiamo parlando che poi non mi sa tanto di orso mi sa di di talpa gigante quindi adesso ci manca un un triple S direi che adesso ci rifacciamo il team mettiamo quegli evento tenendo sempre Takao per forza non ho neanche visto che tribù sono molto bene mettiamo lui qua però vai mettiamolo lì dai facciamo così prenderemo le sberle però non lo so è un talpone è un mega talpone e dopo dobbiamo cercare altro triple S va bene tanto secondo me in due tre slot lo troviamo easy 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 porca miseria non si capisce niente è tutto blu tutto azzurro disastro dai prendiamo quelli che mi servono please adesso da fuori di matto oh ragazzi si sta tirando le sberle però bisogna permetterci anche di morire tu pensa perché tanto non ce ne frega assolutamente niente tu che cosa fai ok c'entra il popper eccolo le bannato pure qua la ragione ci mancava mi sa yes dai che riusciamo a fare anche il primo il primo step povero crono dai due verde e giallo please verde e giallo ringraziato guarda che però iniziano a far male secondo me devo levare il doppio s e mettere qualcuno di più forte abbiamo un livello basso natsu però la talpa è forte riesce a dirmelo per favore adesso impazzisce di si chiude la vera banna me non fa una mazza è bruttissimo sto z è bruttissimo sto z allora Mary Glenn abbiamo trovato il doppio s il triple s e lo z il triple s e quello talpa guarda lo vedi qua nel team sono tutti nel team a parte il doppio z e Takao abbiamo slottato poco più di 40k perchè qua ha malato 5 punti prima me la dati 6 mi viene da pensare eh per quale motivo tu Mary Glenn che hai trovato com'hai slottato attenzione ciao dai proviamolo proviamo sto qua adesso te lo dico adesso ti dico se è brutto vediamo un po' che fa vabbè vabbè alla fine non è male sai eh pensavo peggio non è male l'inner popper però non è male il ragazzo qua uè freia what che piacevole sorpresa eh sì stiamo facendo brutto stiamo facendo brutto ma sai che oggi stavo pensando al vecchio gruppo ogni tanto viene a spiarmi io vedo che giochi vedo battlenet che mi dice stai iniziando a giocare io lo vedo però proprio oggi stavo pensando a voi spettacola che si dice come sta andando no dai è strafidanzata è strafidanzata morcio la fidanzata già ce l'hai te anche te l'abbiamo già trovata sì ma la la quarantena come procedo eh ma tu le scrivi moccio le devi scrivere dammi un pezzo yes però l'arancione ce l'abbiamo tipo cos'è cinque sei ne abbiamo eh non va bene eh non va bene eh Mary Glenn boh non te lo so dire quando ce l'avrò potrò risponderti ah solo tre scusa scusami solo tre ne avevamo effettivamente solo tre scusami il primo che dovresti farlo proprio tutti trovate è giusto io sono sempre live sono sempre qua live si inizia la mattina alle 10 e poi si prosegue cacchio sono troppi blu non ci vedo una mazza stai laggando ah no beh niente cioè io io quello c'ho da fare io ho deciso che quella sarà la mia vita è quello faccio è veramente triste però sta Z è meglio è meglio la talpa eh devo essere sincero e dai finiamo finiamo la mappa finiamo la mappa come sempre facciamo la mappa facciamo le ultime slot guardiamo l'impossible tanto quanti sono 44 qua ah scusami vero ce l'avevo già anche quello eh ma voglio portarlo vabbè più grande più grande non c'era voglio portarlo su si si ci sta ci sta no no ma spinge spinge eh ancora non ho sbloccato nel primo nel secondo però sul gruppo Mary Glenn Natsu mi sa che l'ha fissato come farlo quindi devi guardare già che ci siamo lo portiamo cosa vedo lì cosa è successo cosa cosa è successo Natsu oddio ti ha regalato Pikachu pick up ti ha regalato la sub che è successo oggi e sei continuato ad andare al lavoro attenzione 5 appuramenti regalati vai dio grazie dio grazie 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 sempre di tutto qua qua quando si può uscire ragazzi che venga Bergamo facciamo un disastro qui lo dico e qui lo nego facciamo un disastro facciamo estinguere qualche bestie secondo me se ci portiamo il maestro tu il maestro vi mettete lì scegliete che bestia far estinguere e contribuiamo e a Roma su quella ci dobbiamo organizzare di brutto di brutto portiamo Janji Janji lo portiamo dappertutto però sai che Janji è un po' costoso è matte e tieni duro è un po' c'è un po' di polvere sui mobili bella Ser ma cos'hai guadagnato Ser di 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 dai che manca poco dai che manca poco dai al collo eh ma spero prima però sicuramente quest'estate ragazzi ce la passeremo a casa cioè di cosa stiamo parlando cioè già lo sappiamo che resteremo a casa però magari uno ci spera chi è che non ha ancora visto sono già usati tutti sto schifo qua l'ho già usato bah eh lo so però scusa tu anche tu fraia non sei lì di Roma potete andare al mare no quattro peciusciani tanta roba Ser eh ostia sicuramente è meglio che l'idroscalo o che le piscine qua a Milano sicuramente è meglio eh vabbè però se quello c'hai cosa cosa devi fare sei l'unica alternativa tu pensa tu pensa io mi volevo prendere il soup quest'anno per divertirmi un po' perché ormai il soraf non lo so più usare non ci so più andare sul soraf ragazzi troppi anni io non ci vado d'altro ne stavo parlando prima a pranzo con Monica quest'anno è che potiamo farci le vacanze lunghe nada non possiamo eh quello si anche io ci spero un po' ad andarci però come fai ma anche al lago allora al lago ma come non è morto quello il lago non lo so mi sa di zuozzo cioè è bello è bellissimo però mi sa di zuozzo non riuscirei a farci il bagno come fai a mandare un messaggio che si vede sullo schermo in che senso ma quello della sub non devi condividerlo te quello della sub della live no non ti seguo no mi sono dimenticato di portare su quelle donare fare sub e allora a volte basta che refresh se se si è una cosa automatica a meno che non si bug però io comunque lo vedo 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 le notifiche e massimo lo posso far ripartire io se è veramente bello quel WS molto molto bello mi ha fatto livello 35 ci da un altro pezzo di orologio 100 punti siamo trovati sopra i 100k pica 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 però non ci sta droppando troppe cose interessanti o sbaglio pica pica stamattina l'abbiamo segnita tutta perché non è la partita la sub sta bene sta bene e chi l'ammazza quello ad agosto avrà compagnia avrà da giocare beh magari non subito ad agosto ci vorranno anni prima che avrà compagnia no allora alcuni porca miseria no 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 legge dovrebbe leggere con le donazioni sopra i 5 euro dovrebbe essere così eh ma il mio non è un gatto anzi la mia bella bella come stai ha più ha più la mia forma diciamo frey ma quello che leggi dici moccio eh sì 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 bravissimo sì proprio quella a metà agosto eh dopo ci devo ci devo smanettare grazie frey grazie grazie soppresso oggi abbiamo fatto la foto in 3d stamattina per quello ho startato dopo la live un'ora dopo abbiamo visto abbiamo visto la faccia non farlo vabbè tu me lo dici io evito di farti donare ti ti blocco dalle donazioni come avevo fatto con cinzia sai che questo sai che la talpa non mi dispiace sai che la talpa non mi dispiace se devo essere sincero lo z fa abbastanza schifo non ho ben capito che cacchio fa no cinzia un giorno eh sì me lo ricordo sì ha donato davvero troppo e mi sono ripagato la switch al day one switch 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 e zelda breath of the wild eh sì eh sì è presente la notifica mocio di quando uno si follow hai hai donato 6 euro e 67 così lui si è followato tale dark valar ah no beh chiaro chiaro adesso ve lo dico tale dark valar si si sa cioè si non si sabba fa il follo perché ancora non si poteva sabbare e subito fa la donazione tieni 5 euro e non sto scherzando e lì è partita anche cinzia ha detto allora te li dono pure io e lui fa ok allora te ne dono 10 e cinzia 15 lui 50 lei 100 fuori di test fuori di test eh e di venire da me nazzi che qua dobbiamo mangiare però cioè capisci finché lo fa qualcuno di cui non è che non me ne freghi niente però che non ci sono affezionato come come a voi che vi conosco da una vita ormai mi va bene se una persona a cui tengo che so che non è che guadagna 10.000 euro al mese ma comunque ha uno stipendio normale un po' mi da fastidio che ti fai che poi ho che poi sei tu che ti fai tirare in mezzo però c'è se nelle mie possibilità c'è quella di tutelarti io lo faccio capito ma sai che Janji è l'unico che non ha mai donato è l'unico capito che l'altro giorno si è comprato la Ferrari cioè per farti capire ve l'ho mandata la sua storia se ve l'ho fatta vedere la vedete c'è un altro pezzo di orologio ha shoppato 500 euro su no almeno 500 euro su Ride Shadow Legend santo 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 dio eh vabbè ti ricordi ti ricordi ti ricordi io l'ho shoppati per Vito e mi ha detto quando entri in live ti regalo una sub tu l'hai vista io non l'ho vista però si era già sabato sfidalo sfidalo dai giallo e verde please giallo e verde così ci leviamo di torno a questo eh ma ma me cioè io ti ringrazierò per sempre Dio eh però sai che mi basta anche solo averti qua tutti i giorni cioè per me è una roba che va al di là della donazione ma anche della sub io so che lo fai perché ti piace mi ci tieni a me tutto quanto poi te lo dico a me basta anche solo che stai qua eccolo lì Vito ahia io mi ricordo io mi ricordo ai cosa cioè spero di essermi spiegato bene Dio attenzione qua Vito a parte a chi regaliamo la sub Vito oh il giallo il giallo ci mancava yes come sei messo quell'evento Vito fammi almeno sognare le minchia sei che appena uscirà Diablo 4 se mai uscirà torniamo a dominare con cinzietta anche manca il verde se lo prendiamo il verde qua c'è il verde torniamo a dominare te la ricordi Barbara che portava alla devastazione roteando su se stessa come non è neanche aperto fuori in che senso non va bene ma Natsu mi riesce a dire se la talpa è buona Anakin si mangia Anakin si mangia si ho visto il livello del boss non ho mica ben capito perché è così grande ma andiamo a vederlo mamma mia ma sai che sto aspettando anche il l'immortal lo Diablo Immortal mi basterebbe anche quello eh si ma quando uscirà l'anno prossimo se uscirà uscirà l'anno prossimo dai vabbè ma quanta vita aveva uno eh oh era 22k non era 30 io ho tirato tutto quello che potevo tirare arrivava uno che faceva una puzzetta e ci avevi il set io te l'ho detto e più di così non potevo fare quanto gli ho levato 300k no se forse forse ma proprio secondo me no secondo me secondo me non accetto però ci puoi provare secondo me qua ci lasciamo le penne se non riesco a linkare bene allora tu intanto inizia a fare qualcosa tipo quello vabbè tu perdi sicuro quello quanto ti fa poi poi smezziamo ragazzi ma quando gli hanno chiuso l'azienda è che con i suoi risparmi ha aperto un'altra azienda cioè di questo stiamo parlando da fuori di matto non so come gestirli fanno cagare sti yokai sono veramente brutti ma almeno ti diverti dai però non il viola il verde avevamo detto il verde dai allora crono abbiamo finito tutta la mappa adesso c'è l'impossible guardalo lì guardalo lì inizia a trollarne il gioco eh santo dio santo dio ah ma scusa ma no perché è così grosso ma è lui ma non ho capito perché non ho finito tutte questo è l'ultimo livello oltre questo non ce n'è dai andiamo giù grosso guarda che ti ho già yokai dei miei stivali ti ho già bravo bravo giamma picchia picchia talpa con i capelli dei cugini di campagna allora lo stage giallo 2 è un impossible in che senso c'è un'altra mappa sono 4 mappe non erano 3 eh no eh no e non mi dovevi dire questo sei sicuro sei sicuro bruce sei sicuro questo mi sa che è l'ultimo eh non c'è più niente ne ho sbloccato il 45 ma vedi qua c'è qua c'è qua c'è l'impossible ah attenzione attenzione Natsu qua mi sa che ti divertirai questo è quello difficile difficile quello è tuo ma anche questo è tuo anche questo è tuo perché si può reclutare tutte e due allora vediamo un po' vediamo un po' che team far lo z ce l'abbiamo ok lì ce l'abbiamo che faccio metto metto barbombell allora adesso ti fai un account ti fai un account level 5 poi fai tu aspetta fammi vedere fammelo provare voglio vedere che sberle mi tira tra l'altro team senza senso lo disinstalli lol no no lo santo dè ma scusa ma non va in fever forse questo gli fa malissimo no fa ma fa troppo male mi sono anche stato molto veloce ok ok vabbè dobbiamo sicuramente do portare quelli lì si mi toglie la fever allora andiamo a cercare il doppia il triple s infatti ci ho pensato a mettere dopo baton cue al posto del doppio z probabilmente vero baton proviamo a metterlo cos'è che mi dai qua un altro cristallo ok e dai mettiamolo sai che forse il doppio z non ce ne frega niente ah potrei mettere anche bambaraia oh è bella sebi tutto a posto che dici se mettessimo bambaraia eh non è il massimo questo evento però si può farmare con l'autoclicker così proviamo prima baton no a parte che senza vedere chi c'ha bonus o no al posto così ok però non mi dispiaceva quello eh però effettivamente forse bambaraia ma c'è già barbombel proviamo vediamo 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 a sfruttare dobbiamo prendere l'ultimo triple s che ci manca eh devo ancora farlo vedo ancora ma perché perché fa malissimo fa troppo male fa troppo male non riesco non riesco dai andiamo a sfruttare devo portarli su quel eh sì ma fa male anche con con baton chiù eh e non va bene non va per niente bene vai sfruttare ragazzi gotta ketchup ah no scusa ho sbagliato non era quello subito così dai triple s subito per finire in bellezza giusto qui qui c'è il triple s dai dai che lo troviamo dai che lo troviamo di morbidezza manca solo lui manca solo lui tanto un po' di segreti stanno già iniziando ad arrivare guarda altri segreti easy ma quanti hanno messo in sto evento qua brutta storia brutta storia che è successo nazzo che ti turba fate bravi giovani fate i bravi ah così a caso ok perché c'è un s lì perché ci ha messo un s nella rossa non è che quella più grossa che troviamo qua secondo me troviamo uno z prima del ok prima del triple s ah grande lui mi ricordo quando farmavo con lui triple s doppio s maledetto qua 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 dobbiamo trovarlo dobbiamo trovarlo dobbiamo trovarlo molto bene questo quasi questo è il set no dai fammi il regalo qua boom niente qua qua ci fanno ci fanno spendere punti a caso gli va bene che farmiamo di morbidezza ma vuoi entrare subito Natsu o metto o cerco il clicker dimmi su dimmelo dimmelo te quindi faccio prima il clicker ok ok era giusto per sapere magari ti sarà chiusa la vena dai triple S what ma perché perché ma che troll ma che troll ma dai ma come fa a mancarmi questo come fai santo dio santo dio ah guarda la vodafone che mi dice mai offerte ma è andata a morire si si adesso la faccio grazie so press a doma domani alle 10 sai che va bene sai che le 10 siamo qua ci ha fatto proprio la punta a cuneo dorata molto bene facciamo la punta dai triple S adesso please yes 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 boh a chi vuoi ma anche non oggi domani vai tranquillo ok fatto siamo siamo a buon punto però qua possiamo trovare lo Z ancora un triple S e un altro Z guarda Z ah no scusa un A ah no scusa un S ah scusa un altro S niente flop siamo pure fatti tre segreti e boh ragazzi direi che è fatta adesso mi metto a lavorare offline per per il clicker ci 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 sentiamo ci sentiamo doma sì sì chiudo la live chiudo la live no non vuoi sì dai la chiudiamo mi raccomando no che ultima che faccio la butto via ciao freia è stato è stato bello rivederti senza offesa chiudiamo allora per quelli che saranno arrivati fino a questo punto su su youtube ragazzi mi raccomando like e voi che siete in chat recuperate la live che diventerà un video su youtube e mettete like va bene bella lì fate fate bravi un saluto a tutti quanti grazie per essere venuti su youtube su twitch bella lì ciao 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 Grazie a tutti